La regione siciliana, tramite l'assessorato al lavoro alla famiglia e alle politiche sociali, ha autorizzato il pagamento di 7 milioni e 300 mila euro ai comuni siciliani delle somme per le rette dei 2.266 disabili psichici ospiti nelle comunità alloggio. Nel Nisseno sono 153 disabili ospiti delle strutture, ai quali saranno destinati 493 mila euro. Per quanto riguarda le altre zone, nell'Agrigentino sono stati censiti 570 disabili psichici e il contributo sarà di 1.846.000 euro. Agli enti locali catanesi, che ospitano 320 disabili, saranno destinati i contributi per 1.045.000 euro. Nell'Ennese, con 152 disabili, 490.000 euro. Ai comuni del Messinese, con 111 disabili, poco più di 358.000 euro. Nel Palermitano, 325 disabili censiti, saranno erogati 1.049.000 euro. 661.000 euro sono andati alle amministrazioni locali del Ragusano, con 205 disabili. 613.000 euro per i 190 disabili del Siracusano e 774.000 euro ai comuni del Trapanese, dove si registrano 240 disabili.